17 novembre 1869, dopo dieci anni di lavori è inaugurato in Egitto il canale di Suez. Nato per un'intuizione del diplomatico francese Ferdinand Marie Le Sepp e disegnato dal progettista italiano Luigi Negrelli, il canale permette, con una navigazione di soli 116 chilometri, di raggiungere il Mar Rosso dal Mar Mediterraneo senza circumnavigare l'Africa. Per celebrare l'evento, su commissione del governo egiziano, Giuseppe Verdi compone l'Aida.